Allora, in questo giro di campagna elettorale, questa mattina ho incontrato Samir. Samir è di origine tunisina, ha la cittadinanza italiana, voterà e ho chiesto chi voterà e lui mi ha risposto voterò Lega. Vediamo un attimo, Samir, adesso giro la telecamera. Dibbi un pochettino, com'è questo fatto di votare Lega? La Lega bisogna fare un po' di pulizia all'Italia, non va bene per colpa degli altri, le prendiamo noi anche le responsabilità degli altri, bisogna tenere i bambini che sono nati qua in Italia, le persone per beni che sono lavorando qui in Italia, che danno il contributo, gli danno tutte le cose qua in Italia e l'altro governo si interessa per le altre persone che clandestine lavorano a nero. Ho capito, quindi tu in un certo senso stai subendo anche un po' di discriminazione per colpa di questo fatto che l'Italia pensa più agli irregolari che a voi che sono stati regolarizzati. Ma l'Italia non ha pensato, niente un giorno per le persone regolari qua in Italia, sempre pensa per non regolari in Italia. Ho capito. Samir, mi raccomando, il 4 marzo sai cosa devi fare? Cosa farai? Vi voterò Lega Nord. Ok, ciao.